Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato oggi una nuova poesia dal titolo Comunità di Vita. Spero dopo la condividerete sui vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Comunità di Vita perché siamo chiamati a capire le esigenze della vita, viverle nella comunità con la sua bellezza unita a tanta candida fierezza. Siamo chiamati quindi a donare senza sosta dei sorrisi, delle carezze e qualche spicciolo per allegrare la comunità in festa che a volte ha bisogno di qualcosa. Nella comunità c'è gente che ha bisogno di qualche carezza, di un sorriso di conforto, di qualche spicciolo per comprare qualcosa. Nella comunità quindi c'è sempre un vai e vieni di azioni belle, azioni che riempiono e ci riempiono il cuore. La comunità di vita dove tutti sono chiamati a quella forza che ci collega per donare risultati e resoconti e così per poter stare bene, in allegria e con tanta fierezza. Ecco, vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Comunità di Vita. Siamo chiamati a capire le esigenze della vita e viverle nella comunità con la sua bellezza unita. Siamo chiamati a donare, sempre senza sosta, sorrisi, carezze e spiccioli per allegrare la comunità in festa. Comunità di vita dove tutti sono chiamati alla forza austera per donare risultati e resoconti e così il popolo poterà aiutare con allegria. Comunità di vita focosa, ricca di speranza accesa, fervida di lode armoniosa, regina della madre ricca di speranza. Grazie, spero la condividerete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Arrivederci. Grazie.